Incroceranno le braccia domani, mercoledì 15 febbraio, i netturbini del lato GESA Grigento 2. Gli operai si asterranno dal lavoro, dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani, perché sono creditori dello stipendio di dicembre, mentre nel frattempo è maturato anche quello di gennaio, il cui pagamento scadrà proprio domani. Il personale è esasperato dai continui ritardi con cui sono pagati gli stipendi e non intende tornare al lavoro. I sindacati di categoria hanno più volte incontrato il liquidatore del lato GESA Teresa Restivo per sollecitare il pagamento delle mensilità arretrate, ma senza ricevere risposte soddisfacenti. Alcuni comuni non hanno ancora saldato il debito con il lato GESA per problemi economici, la regione non intende anticipare i soldi e da allora Teresa Restivo sarebbe impossibilitata ad erogare il contributo alle ditte che si occupano della raccolta in provincia. Domani quindi i cassonetti della spazzatura non saranno svuotati e la città sarà invasa dall'immondizia. E da una cattiva notizia sotto il profilo eugenico-sanitario ad un'altra decisamente migliore. È iniziata oggi la bonifica delle strade provinciali da parte del gruppo tutela ambientale del settore ambiente della provincia di Agrigento. Si tratta di lavori di raccolta, trasporto e conferimento in discarica o presso le ditte autorizzate al recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade di competenza della provincia regionale e sono eseguiti dalla impresa Ciulla SRL di Agrigento che si era giudicata nei mesi scorsi il relativo appalto di 83.500 euro. Le prime operazioni si sono svolte lungo la strada provinciale numero 1 con il rivestimento e la messa in sicurezza di numerosi contenitori di amianto. I contenitori saranno successivamente rimossi e consegnati alle discariche autorizzate, allo stoccaggio e allo smaltimento di questo materiale altamente pericoloso. Poi sarà la volta della strada provinciale 62 Licata-Riesi a completamento dei lavori eseguiti nei mesi scorsi lungo questa strada quando furono rimosse diverse tonnellate tra amianto, ingombranti e rifiuti non pericolosi. Soddisfatto il presidente della provincia Eugenio Dorsi che afferma l'impegno dell'ufficio risanamento ambientale del settore territorio e ambiente della provincia regionale di Agrigento testimonia la volontà da parte dell'amministrazione di eliminare qualsiasi potenziale pericolo per la salute dei cittadini e conferma che purtroppo c'è ancora molto da fare per sensibilizzare la popolazione sul pericolo che questi rifiuti possono rappresentare. Conclude il presidente Eugenio Dorsi. Grazie.